guarda stanno entrando alle ultime due persone lorenzo ok ci siamo sostanzialmente ci siamo quasi tutti una quarantina di persone collegate ok 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 allora io vi vi aggiorno sul fatto che ovviamente se state con la telecamera attiva sarete per sempre su youtube per cui se non volete spingere la telecamera vita natural durante vita per sempre cioè mille mille anni e io direi di cominciare vai vai ok salva a tutti stasera ci divertiremo con i nuovi imbottigamenti di vallace e mallet grazie a questa collaborazione tra insomma un po tutti noi per cui vi presento i ragazzi di whisky italy diego e igor malaspena david romano e fabbio di valice mallet e fabbio armoli lo strade selection insomma che ci terranno assolutamente compagnia io vi lascio per adesso la parola se avete qualcosa da dire caro davide caro fabio perché io proprio adesso me la voglio proprio godere voglio dire più niente intanto tanto ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo tutti quelli che stasera sono con noi siamo un bel po è bello e quindi sicuramente poi con fabbio e davide ci divertiremo fabbio e davide che ringraziamo chiaramente senza di loro ragazzi stasera l'avrei vista l'avrei vista molto dura quindi grazie per per essere qui grazie soprattutto per fare questi fantastici il lascio che stasera andremo andremo a degustare serata dedicata alla torba perché poi alla fine sono quattro quattro whisky torbati vi do vi do la l'ordine e poi lascio la parola chiaramente a a fabio e davide che saranno i mattatori per questa sera io lorenzo e igor ci fermo da parte perché tanto se ci sono loro noi non abbiamo neanche senso cosa parliamo a fare esatto ci mettiamo lì ascoltiamo beviamo impariamo impariamo c'è solo quello che possiamo a fare e dunque per quanto riguarda stasera inizieremo con il legge che si voglia il south shore come secondo il colira come terzo e l'armor come come ultimo a chiudere adesso ve li metto in chat così poi ce li troviamo e niente grazie a tutti buon proseguimento e buona bevuta direi che possiamo passare la la parola non so se fabio fabio tocca a te fabio però come al solito una piccola introduzione di poche parole come il mio costume visto che sono accusato di essere prolisso no scherzo anche io ringrazio ringrazio tutti gli astanti è un grande piacere per me davide condividere con i malaspinas e non solo usi con tutti voi queste queste piccole cose che che facciamo insieme questa serie si chiama madness perché effettivamente a un certo punto ci stavamo domandando cosa avremmo potuto fare un po di nuovo no cercare di capire un pochettino anche cosa poteva essere cosa sarebbe potuto piacere anche a quelli che sono i consumatori o che stimoli avrebbero potuto avremmo potuto proporre evidentemente davide in questo senso è un vulcano e ha questa avuto questa idea delle serie legate all'arte e siamo e siamo stati molto fortunati perché lui ha trovato questa pittrice diciamo questa artista pop che probabilmente la più importante in questo momento in italia che ci ha cagato ci ha dato retta e devo dire ha centrato molto quello che era il nostro spirito di fare una cosa un po un po pop un po scherzoso sottolineo il fatto che queste qua sono botti di nostra proprietà quindi non sono botte che noi abbiamo riperito all'ultimo momento o che ci sono state date o che abbiamo comprato queste sono tutte botte su cui abbiamo lavorato tranne va bene le dai che l'abbiamo comprato diversi anni fa però è l'unico che non è stato diciamo reinterpretato questo è per noi un punto d'onore dopo sei anni di bottigliamenti e qualche anno di attività sicuramente avere un questo tipo di proposta credo che sia l'unica al mondo in questo momento che offre quattro tipologie di turbati completamente diversi l'uno dall'altro il progetto continuerà con i quattro space cider che faremo e i quattro possiamo dirlo i quattro islands che faremo più avanti quindi riunendo sotto lo stesso tetto diverse espressioni delle varie zone che magari sono passate un po di moda perché evidentemente c'è stato un appartimento della della produzione ma così ci piaceva avere almeno un filo conduttore tra le espressioni che abbiamo a disposizione the pitiful pack viene da un'idea di davide che si ispira evidentemente al film di tarantino quindi una sera che evidentemente era particolarmente sbronzo particolarmente contento abbiamo deciso di chiamarlo così sicuramente l'abbiamo voluto chiamare madness perché le espressioni sono molto diverse tra di loro anche in virtù del fatto che sono state interpretate sono state interpretate in base a dei legni che abbiamo avuto la possibilità di utilizzare andrei direttamente a questo punto all'assaggio del primo che è uno springback no sto scherzando che è un ledaig questa battuta l'avevo già fatta prima offline ledaig evidentemente è frutto della distilleria tobermory che è una delle più antiche di scozia tant'è vero che adesso sta cadendo pezzi e la distel come bunaven è costretto a rimetterla a posto la è un whisky è destinato a diventare abbastanza storia perché la distilleria sta subendo diciamo delle trasformazioni molto importanti che stanno entrando nella modernità quindi sono un po le è un po l'espressione di quello che difficilmente troveremo ancora nel futuro tobermo riproduce quattro mesi all'anno un torbato un torbato di schema legge è successo eccolo qua che spavento vai vai il teschio per la torba e tutte le fiamme poi fabio quando l'ha presentato faccio un attimo spiego un po come è nata questa collezione un paio di aneddoti giusto per tenere alto il fatto che sia io quello logoroico però si è tutto basato comunque sul fatto della torba fumicato fuoco fiamme eccetera vai vai pure fabio non volevo interrompere abbiamo perso abbiamo perso il filo abbiamo perso fabio mi sa che devi andare avanti tu allora la collezione nasce prima ancora della spirito vart come idea perché io ero ad art verona perché con con mia ex ragazza frequentavo tanto gallerie arti in generale e eravamo ad art verona al 2019 che è settembre ottobre non mi ricordo la fiera o novembre e avevo acquistato un un set di skateboard dipinti da lei in cui c'erano queste questo stile comunque uno stile pop lei è diventata molto famosa perché murakami che takeshi murakami il pittore aveva fatto un un quadro che è il fiore che è molto famoso che è questo qua che adesso cerco di fare lo share perché sono diventato praticamente lo vedete sì sì fiorellone ha fatto questo fiorellone che è molto famoso è il fiore di murakami che lei ha reinterpretato e reinterpretato alla maniera sua così come pianta carnivora che si mangia murakami ditemi se non lo stiamo vedendo murakami se c'è ancora l'etichetta del legge a vedi allora vedi che non si è fatto allora scusate il fiore resume share lo vedete no bene i miei grandissimi mezzi devi togliere forse il quadro prima stop share ok adesso ce la faccio e faccio una alla volta e faccio prima eccolo questo è il fiore di murakami che lei ha reinterpretato come diventerò sempre più bravo a fare questo passaggio no stop share ce la posso fare eh sembra che mi sono incartato ma è il bello della diretta ma che ci fai venire da sboccare intanto noi stiamo stiamo non ce la posso fare non me lo fa non me lo fa condividere come non detto comunque ha fatto questa reinterpretazione del quadro e murakami l'ha chiamata e se l'è comprato e ovviamente quando succedono queste cose agli artisti piccoli da parte degli artisti grandi piccoli per modo di dire ovviamente ha avuto un effetto artisticamente molto molto importante su di lei comunque sul panorama internazionale e quindi è cresciuto eccetera ovviamente poi comunque è molto brava e io l'avevo buttata lì l'idea mi piaceva ho detto cavolo siccome queste queste immagini possono essere animate ho detto perché non non facciamo una cosa con le bottiglie lei aveva già fatto la livrea di una moto di Valentino Rossi del team moto 3 di Valentino Rossi e la scatola non l'etichetta di una birra però non aveva mai fatto queste cose con gli spirits e allora eravamo era novembre dicembre 2019 abbiamo detto noi stiamo producendo dobbiamo un attimo darci una mossa però per il 2020 lo voglio fare perché dobbiamo dedicarci del tempo di avere il tempo di dipingere perché sono tutti olio su tela alla fine e poi è successo quello che è successo alla fine del mondo e quindi non l'abbiamo saltata in realtà è stato un bene perché io non avevo assolutamente idea di come poteva metterle sulle bottiglie queste immagini perché non esisteva la spirito Vart non avevo ancora trovato questa azienda questa tecnica di stampa diretta su vetro e quindi mancava la tecnologia per realizzarlo è arrivata la spirito Vart prima a quel punto visto che comunque funzionava l'effetto e sono ritornato alla carica e a gennaio del 2021 glieli ho commissionati e gli ho detto facciamone quattro perché avevamo individuato queste quattro botti con Fabio e avevo pensato al nome come ha detto Fabio l'idea nasceva di hateful hate il gioco sia hateful come odiosi diciamo ma anche come il fatto che erano otto questi erano quattro però non sapevo se fossero sarebbero stati quattro o cinque allora ho detto giochiamo sul fatto che tutti mi chiedono sempre ci chiedono questa cosa dei PPM che io sbarello ogni volta che me lo chiedono perché secondo me è una domanda che non è molto importante cioè i PPM quanti PPM ci sono nei torbati quanti sono 32, 37 ma prima dopo la distillazione si diventa un po' matti e allora ho detto scusa giochiamo con PPM allora abbiamo detto The Pitiful Pack Madness quindi siamo riusciti a mantenere Pitiful come è scritto vuol dire sia pieno di torba ma suona anche come diciamo miserabile ecco come terribili e quindi negativo e quindi era il gioco anche di prendersi un po' in giro diciamo che questa serie nasce come tante cose che facciamo con Fabio anche per prenderci in giro e divertirci ecco non vogliamo essere per forza super seri vediamo se riesco a mandare niente ti giuro vengo lì e ti metto le mani in faccia se non la pianti ci fai fare la connessione tutte le volte il monero però vabbè niente non ce la faccio a condividere lo schermo non funziona la condivisione rinuncio rinuncio alla condivisione voglio farvi vedere i quadri ci provo nel mentre allenati allenati mi allena adesso come immagine mia così non vi mando esatto per cui adesso parliamo di ppm allora questo questo deja che ha 14,37 ppm riporto di 2 col gatto che avanza no scherzi a parte è un barbon casque quindi è l'espressione più semplice che abbiamo come ha detto anche Serge anche secondo anche secondo noi le daig le daig potrebbe diventare un nuovo un nuovo status cioè perché la qualità media delle botti che hanno mandato in giro è veramente eccellente qualcuno si ricorda quello che abbiamo fatto alle spalle adesso ce l'hai qua e lo so l'ho fatto apposta per non rompere le scatola a nessuno esatto si ricorda quella quella pazzia che abbiamo fatto mettendo il le daig in botta di punta il le daig è molto buono anche da soli quindi se andiamo all'olfazione magari l'avete già già fatto e quant'altro beh sì certamente l'abbiamo fatto tutti quindi questo è un whisky pericoloso è un whisky da non portare a casa perché veramente potrebbe finire potrebbe finire in un paio di serate tra amici e se lo porti a casa da non far vedere agli amici eh sì ma il problema è che gli amici miei sanno dove mettere le mani non ho una casa così grande vanno direttamente al mobile bar in cassaforte io vado a prendermi una pizza in genere a casa mia non ci sarebbero problemi non condito niente con nessuno per cui questa è la regola sarà un piacere essere tuo ospite molto bene mi porto le bocce da casa abito abito lontano abito anche tu fai come in inghilteria ma ci vuole poco un frecciarossa un italo vicino siamo lì in un attimo a din dong dai scherzo per te ce l'ho il whisky dai anche io qualche cosina in casa ce l'abbiamo comunque dai il naso il naso secondo me è favoloso il naso ha una bella sua profondità una sua piacevolezza e vorrei sapere cosa ne pensano non solo whisky io penso che questo whisky come ha detto te per i miei gusti è molto pericoloso credo che sia assolutamente a chi piace la torba io cerco questo nel nel whisky torbato anche questi settori sintetici molto riconducibili a della gomma mi piace proprio tanto allora se ti piace la gomma da qua in poi ti divertirai perché in realtà questo è quello che ne ha meno questo ha una freschezza questo ha una freschezza di erbe aromatiche costiere sì è vero è vero è vero sì 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 ricorda quasi alcune alcune salvie pelose vero poi c'è smarino si sente anche molto la parte del bar la parte di vaniglia esatto questo questo probabilmente un first fill e l'apporto di vanilline della Quercus Alba si sente decisamente interessante se non ricordo male se non ricordo male dovrebbe titolare 52 e 4 direi che l'alcol l'alcol non è beh ho letto sulla bottiglia direi che è tenuto molto bene sì 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 l'alcol è inesistente l'alcol è assolutamente al naso sì però poi al palato esplode esatto andando poi a degustarlo a degustarcelo si ha ancora questi sentori di maltazione a noi era piaciuto molto perché ha proprio queste sensazioni del malto tanto fa salivare parecchio perché è comunque abbastanza salino però è molto pulito secondo me è un epitome mi piace dire epitome tutte le volte che posso anche dal macellaio dal salumier è un epitome insieme ad australopiteco è epitome esatto è un whisky che è un australopiteco veramente l'edaig dovrebbe essere così quando è torbato perché lascia questa pulizia di bocca salina meravigliosa è un whisky che a me è piaciuto molto infatti lo manderemo ai famosi blogger che vogliono la purezza del distillato e questo genere per avere più punteggi più alti possibile per farci belli tant'è vero che non gli abbiamo ancora mandati campioni non abbiamo neanche per noi abbiamo quelle che sono le bottiglie io i campioni della botte perché sembra che non abbia in mano niente ma che cosa meravigliosa ci stiamo rubando in magazzino le bocce guarda di là ci ciulliamo le bocce a vicenda perché è un tale piacere dividerlo con tutti che ce ne sono rimaste veramente poche però per l'Italia un centinaio di sere comunque sono sono andate e sono andate anche sold out cosa che ovviamente si riempie di gioia e riempie il portafoglio di Malaspina a non finire per cui sicuramente no a parte ringraziamo i nostri si è notato Fabio anche il cambio di look di Malaspina con il loro ufficio hanno comprato l'ufficio dopo aver venduto la serie la cosa fantastica è il clone di Igor perché non è lui perché sorride troppo sta sorride troppo cioè in genere per cui abbiamo immaginato una specie di qualche inserto biologico è la tasting room Fabio e Davide l'abbiamo l'abbiamo nominata abbiamo in vostro onore grazie complimenti live di Roma qualche io non vedo le chat non vedo niente però c'è qualche commento interessante dei nostri astanti la chat la seguo io per ora i nostri astanti secondo me stanno tutti bevendo vedo vedo Egidio almeno sì c'è qualcuno aspetta Cristian Conti Antonio Spina a me mi piace io vedo il legge dietro a Diego ok va bene Davide Davide Caronno Mirko c'è un bel po' di gente molto bene molto bene Riccardo Bamba vedi cenere mela ananas fraccia c'è una parte di frutta tropicale devo dire leggera sì 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 mango è andato male no nel senso override override c'è un po' di frutta di frutta strammatura diciamo questo l'abbiamo usato come entry level perché è quello più puro diciamo un po' un po' meno lavorato me lo devo tirar via delle mani perché comunque questo è quello che è uno di quelli che secondo me è un whisky vecchio stile mentre adesso andiamo scivoleremo verso le sperimentazioni e le follie pure però devo dire che è un whisky che c'è che gli è riuscito molto bene noi abbiamo avuto solo la fortuna di comprare la botta e di selezionarlo per voi insomma questo legger è 2008 quindi è il fratello di quello che avevamo fatto quattro anni fa tre anni fa quattro anni fa ridotto in grado il dieci anni se non sbaglio nel 2018 è il fratello non è il fratello di quello che è finito nella botta di punta che invece era un 2010 però mi ricordo quando avevamo preso il 2010 che l'obiettivo era cercare di trovare qualcosa come questo 2008 quindi è stato un po' il gold standard quando avevamo comprato se ti ricordi Fabio perché poi anche perché l'altro che avevamo comprato l'altro è un 100% sherry l'altro l'abbiamo messo in sherry in faraon non bisognava dirlo ma perché non c'è mica di male magari lo vendiamo magari ce lo beviamo tutto non necessariamente si editerà si editerà presto ci facciamo il bagno bevetelo in compagnia ci facciamo il bagno in compagnia no vabbè Davide Caronno ci dice che è un bel matto pastoso sente il mango andato male sotto il traumatico bruciato un po' di legno pericolosamente molti sentono questa parte sabida sembra un diciamo pneumatico bruciato di fianco a mango andato a male mi sembra un attimo una serata d'inverno a Bangkok grossomodo nella periferia eccoci con non mi verrebbe in mente altro c'è chi ci sente lo spinterogeno della Cadillac poi dipende che droghe assume uno da giovane cioè voglio dire quello buono buono dai proseguiamo proseguiamo lascio lascio parola a Davide che ci parla un attimo del South Shore che ha avuto una storia lunga e complessa che nasce da dagli albori della nostra collaborazione allora il South Shore nasce insieme al nostro South Shore quindi ovviamente prendetelo annusatelo io se no non il South Malte South Shore attenzione South Shore South Shore nasce quando abbiamo fatto l'Islam Holt quindi quell'otto anni ed era gennaio 2016 che abbiamo fatto questo acquisto abbiamo comprato tutto questo batch di botti direttamente era anche l'anno in cui la Gnagnavulin aveva fatto i 200 anni e avevano messo sul mercato un po' di botti che noi ci siamo accaparrati quante più potevamo ai tempi era una cosa pazzesca dimmi il Gnagnavulin fece un 8 anni lo stesso anno che prese un punto in meno del nostro e venne Gasparri della Diageo a minacciarmi di morte facendoci complimenti tra l'altro non nego e non confermo quindi fantastico e il figlio e Andrea Gasparri mi sa che comprò una bottiglia tra l'altro che meraviglia e quindi avevamo imbottigliato tutto perché avevamo fatto questa follia di imbottigliarne non mi ricordo quante bottiglie avevamo fatte era 1600 1000 litri era 1000 litri in totale però avevamo imbottigliati l'equivalente di 1600 bottiglie per fare il South Shore e la Molte che poi è andato è finito eccetera però avevamo tenuto una botte e una botte l'avevamo messa dentro il nostro legno del nostro primo Caroni quando Caroni non costava come un'automobile ma era qualcosa che si poteva fare e si trovava e c'erano delle cose assolutamente imbevibili e delle cose molto buone e l'avevamo messo subito dentro la nostra botte del Caroni adesso me lo metto anch'io come dietro proverò ovviamente a condividere lo schermo farò venire tutto il vomito ma io finché non ci riesco non posso mollare quindi ce l'avrete tutta la sera questa cosa l'abbiamo messo dentro perché fondamentalmente è stato un esperimento abbiamo detto perché no no e ce lo siamo grossomodo dimenticato perché l'abbiamo messo dentro nel non mi ricordo neanche più 2016 e ce lo siamo letteralmente dimenticato lì l'abbiamo un po' seguito nel tempo però diciamo che aveva bisogno un po' di starsene per i fatti suoi e maturare un po' e lo abbiamo riassaggiato recentemente e per questo progetto abbiamo detto forse valeva il caso vale la pena adesso ditemi se si vede si vede no niente si no si vede si vede si vede il quadro si vede si vede come a tutto schermo ce l'ho fatta e allora quando Laurina mi ha chiesto i soggetti più o meno no io l'ho spiegato per favore facci è una serie basata sulla torba sul fumo sull'affumicato l'alambicco è fatto così vedete che c'è un alambicco mettici dentro un po' dei tuoi personaggi che alla fine sono i personaggi diciamo che hanno fatto parte anche della mia di infanzia tipo Grattachecca e Ficchetto ovviamente non si possono fare troppo simili per questione di copyright però mi piaceva l'idea e poi le ho spiegato un po' la storia di Caroni no le ho detto alla fine Caroni negli anni è diventato una sorta di gallina d'aloevoa d'oro qualsiasi cosa in Caroni dagli amari alle birre sembra che siano stati toccati dal 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 sommo e allora siccome in realtà il personaggio della paperina di plastica è lei cioè lei come come artista si rappresenta o con lo smile che vedete appeso al al becco della papera o proprio con la papera e allora per divertimento si è messo anche lei però si è fatta questo squarcio nella pancia da cui escono i soldi che era una sorta di presa in giro della di tutto ciò che sta dietro esatto di quello che sta dietro fondamentalmente a volte alcuni marchi di room però è stato un esperimento divertente soprattutto perché noi non siamo dei grandissimi fan dei finish o delle chiamarli finish con così tanti anni su così tanti pochi di base è un po' azzardato il finish è sei mesi questi sono ormai quattro anni che ci ha passato dentro diciamo una seconda maturazione una doppia maturazione non siamo dei grandissimi fan di cose strane in questa serie le abbiamo buttate dentro tutte però devo dire che come come botte di room non è stata così tanto marcante che è un bene in questo caso perché se vi ricordate com'era il South Shore era molto l'otto anni era comunque molto bello molto pulito molto elegante non elegante inteso come noioso ma diciamo un po' d'altri tempi non era esagerato il legno era era non troppo marcante in realtà ha dato alcune note alcune note da petroliera le ha lasciate allora posso posso dire una cosa noi ci aspettavamo che desse una carica cromatica si colorasse un po' invece assolutamente no perché probabilmente era è stato un legno da trasporto cioè ci siamo convinti alla fine che questo legno in realtà come spesso succede per i rum che arrivano in continente o comunque sull'isola e sia stato ritravasato quindi anche l'apporto di caroni non è non è stato così violento anche perché se no l'avremmo tolto dal legno molto prima perché a noi interessano i whisky non il caroni quindi il fatto che ci sia un apporto di questi questi profumi un po' diciamo di stivale di gomma che piace tanto a Maximo Righi o cose di questo genere qua c'è ma direi che la distilleria è molto molto rispettante considerate poi che caroni non è un segreto tutti i caroni che sono arrivati sono arrivati nel 2008 o 2009 dopo l'asta e sono stati messi in botte erano venuti in taniche e sono stati rimessi in botti la botte non viaggia in nave sappiate che è illegale non lo fa nessuno anche se lo dicono non si può fare e sono stati messi in legno dopo quindi considerate che in legno ha passato molto meno tempo rispetto all'età totale quindi ci può stare che magari il legno non abbia preso così tanto non dico che eravamo indecisi se metterlo o no non è stato un modo per imbellettarlo come prodotto però ci abbiamo pensato su se metterlo come rumo o meno alla fine si è fatti i suoi anni e aveva una nota diversa rispetto al South Shore diciamo originale e quindi ci piaceva l'idea poi c'entrava anche con la serie quindi ci poteva stare il riferimento alla botte alla botte room ha delle note un po' diverse se il lotto era tanto più pulito questo avevamo trovato una soprattutto nel finish è quello che vedo anche nei nei commenti una diciamo una una nota quasi di di frutta di una punta di no di astringenza ma un pochino più secco nel finale rispetto a quello che era il South Shore è vero è vero è diventato è diventato più secchino tra l'altro è impressionante il miglioramento che ha avuto in bottiglia quando l'abbiamo aperto a meno 4 quando l'abbiamo ricevuto a meno 4 grandi centigradi era un po' più muto devo dire che ha avuto un'evoluzione abbastanza impressionante tu adesso probabilmente c'è ancora in mano un campione vetusto però devo dire che si sta articolando moltissimo su vari livelli cioè è veramente un lagavoli pluridimensionale mi piace dire anche pluridimensionale lo dico un'altra volta pluridimensionale comunque Fabio sento più note aromatiche di di erbe aromatiche qui che rispetto al whisky precedente io qui sento tanta tanta maggiorana e tanto riga eh sì 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 la maggiorana bravo bravo vado a prendere un poccetto esatto proprio questo la gomma c'è la nota smaltata c'è c'è la frutta tropicale però quello che mi viene in mente è proprio è vero e questo c'è ragione tu c'è ragione tu diciamo che ci è piaciuto un'influenza così bassa ma sai che è quasi origano sì sì origano e maggiorane insieme un po' origano un po' maggiorane è il whisky bruschetta come dice Matteo che è sempre un passo avanti agli altri è un whisky bruschetta e con questo chiudo la diretta tutti a casa già ci stiamo il whisky bruschetta non l'hanno fatto neanche i giapponesi se ne avevamo duemila bottiglie facevamo il grano un po' timidi nelle note di degustazione il primo del primo le lake ma adesso sono praticamente tutti l'alcol sempre così primo rompere il ghiaccio no sempre rompere il ghiaccio il primo penso se facevamo una degustazione di mescalina che cazzo succedeva vediamo se riesco a farvi vedere lo studio adesso esplode il computer riesco a farvi vedere lo studio no in bocca è devastante si vede lo studio sì bello questo è lo studio di Laurina con lei dietro quella scritta zio porca poi ve la faccio vedere in un'altra in un'altra foto che abbiamo fatto vedendo lo studio capite come mai i quadri sono così è il delirio più totale nel senso che una quantità di oggetti dagli alieni ai gatti ai fumetti di tutto il suo stile è proprio i suoi quadri la rispecchiano a pieno è veramente un posto pazzesco vi piace l'arte contemporanea poi e questo stile è entrarci è una cosa pazzesca ed è in una sorta di parcheggio multipiano dietro un hotel entrando a Roveretto vicino a Trento io pensavo che quello fosse tipo mi stanno mandando qui a parcheggiare e poi andiamo con una macchina sola tutti insieme una cosa del genere invece no era proprio dove era lo studio è un posto veramente pazzesco mi sono divertito come vedete era estate era quest'estate a luglio un caldo pazzesco un umidità però è veramente un artista veramente divertente quello sicuramente diciamo che ci siamo divertiti non che noi di solito non ci divertiamo perché con Fabio ci facciamo sempre delle grosse esatte prima di fare le cose verso di noi più che altro con l'augurio di non fare troppe cazzate però in questo caso l'abbiamo proprio buttata sul sul divertimento perché come vedete anche come stile è completamente diverso da quello che abbiamo fatto finora la nostra etichetta è sempre stata definita come antica e moderna contemporaneamente la spirito vart che continuerà ovviamente ha un suo stile molto più diciamo elegante più serio ecco con questa serie invece voleva essere un target se vuoi anche diverso e far vedere che non è che siamo con i paraocchi oltre ci divertiamo anche noi a fare cose un po' fuori di testa volevamo fare i fighi comunque rimane il fatto che sia naso che bocca una bella corrispondenza naso bocca e in bocca è molto lungo cioè è comunque un al di là delle battutacce è comunque ha una e poi è secco non è riesce a non essere ridondante che nella torba è molto facile avere questa sovra sovratorbatura che ogni tanto disturba e invece si lega molto bene al malto ha avuto ha avuto una evoluzione in bottiglia nell'ultimo mese sono io ho aperto la bottiglia davanti a voi devo dire che sono rimasto anch'io abbastanza stupito quindi diciamo che ci sono anche delle prospettive interessanti sicuramente ha bisogno di più grasso è più grasso si lo dice anche è diventato più cicciotto mentre il South Shore vabbè sono passati anche un po' di anni di botte quindi ha probabilmente diventato anche terziare se sono un po' non so quanti lagavuli quanti gagnavuli avete bevuto così? così niente quasi praticamente a parte che voglio dire non credo di aver mai bevuto un whisky che abbia fatto tutto questo tempo di maturazione in una botte di rum sicuramente non caroni quindi già già questo per me è una sì beh ripeto la botte era comunque abbastanza scarica le note ci sono qualcuno ha sottolineato che l'ha portato verso una secchezza quindi magari secchezza più più secchezza e non ridondanza perché chiaramente poi adesso andremo verso l'hardmore che invece è un tripudio di puzze di casini di sovrattoni perché comunque è molto divertente dovessimo paragonarlo a un compositore musicale di Totò Cotugno ma dipende di musica classica o classica classica so che siete una banda di ignoranti però eh? ma Liz mentre prima era più era più su Rachmaninoff questo Rachmaninoff è proprio ci spariamo direttamente ci impicchiamo Rachmaninoff è uno dei più grandi compositori sì no no era molto allegro mentre mentre dopo andremo verso Berlio perché l'ho fatto perché è un whisky che ho voluto imbottigliare io questo è bello mi piace molto ma non dovete darmi retta quando dico queste cose potete anche coprirmi di insulti una una chicca che lasciamo beh chicca in realtà no è un insider che lo sappiate sul mercato quando vi viene proposto Gnagnavulin per sapere se ho Gnagnavulin o no l'unico anno che quelli come noi hanno potuto comprare è il 2008 tutto ciò che non è 2008 non è Gnagnavulin anche se c'è scritto che Gnagnavulin viene da sud no il problema è quello che non c'è stata non c'è stata nessuno o sono botti che sono state comprate prima ma dopo il 2008 non sono state fatte più è anche un altro Gnagnavulin che è Carabus di Hunter Lang è stato comprato nello stesso periodo quindi tutto ciò che è venuto dopo quindi non non si scappa alla fine in bocca adesso qualcuno ha aggiunto dell'acqua non dentro se stesso al whisky l'ha chiesto anche Roberto perché io qua con me ho solo acqua gasata ah guarda arriva le pipe del Teo eh quella quella è la presa direttamente alla fonte di Gnagnavulin immagino esatto questa è la presa alla fonte di Gnagnavulin e contiene del dietilamide dell'acido lisergico tac 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 quattro gocce mi sa che acqua dell'Ambro è acqua dell'Ambro fiume noto come il vostro Aniene giusto per la qualità delle acque esatto tanta roba all'Ambro comunque in molti dicono che è comunque molto diverso dal classico lagavulin che vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro esatto quindi anche se era molto scarica la botte di Caroni in questi otto anni scusami in questi cinque anni ha lavorato ha lavorato molto cioè comunque ha cambiato il distillato sì e non l'ha stravolto che era la paura che avevamo con Fabio all'inizio ovviamente perché noi l'abbiamo seguito ogni anno grosso modo primo anno credo dopo sì primo anno e poi vedi subito se prendono una direzione importante allora magari cerchiamo di seguirlo ogni sette otto mesi anche perché i tempi di un campione sono eterni tu lo ordini e ti arriva la stagione dopo grosso modo però avevamo visto che non era così veloce la maturazione e aveva bisogno di tempo e quindi c'è stato un modo di seguirlo e l'abbiamo lasciato lì diciamo che non stava c'è che è fortunato che le assaggia tutti i mesi tutti i mesi sì abbiamo sentito non so come facciano è incredibile ma perché hanno delle dritte diverse dalla nostra gli arrivano a dorso di mulo i campioni perché adesso siamo un po' sfigati ci mettono tre mesi a mandarci i campioni e più a prenderli ci arrivano i campioni dopo che hanno cambiato lo stato civile il sesso un paio di volte abbiamo detto vabbè imbottigliamo poi arriverà il campione vediamo se abbiamo avuto fortuna esatto nella vita dell'imbottigliatore indipendente c'è anche questo chiedi il campione fai prima imbottigliare che ti viene il campione ma cazzo è arrivato il campione di quello che aveva imbottigliato beh meno male io e Fabio adesso nel weekend cioè più o meno questa è l'idea poi sicuramente finirà tutto in pappa dobbiamo decidere che campioni chiedere delle botti dove spostarli fra una warehouse all'altra non so come il risico spostiamo i carri armati ne spostiamo le botti sperando che non si bochino come l'ultima e la mia risposta è stata quindi prendo l'aereo e li vado a prendere no perché non arrivano essendo ovviamente peggiorata la situazione sia per spostarsi che per farsi dare retta anche perché purtroppo negli uffici non sta lavorando molta gente in Scozia e soprattutto non è che sposti i campioni o le botti in smart working quindi ci vuole un operaio che vada a prenderli i tempi si sono veramente allungati per cui non è escluso che andiamo a prenderceli veramente perché c'è il rischio di vedere la roba tra un paio di mesi noi dobbiamo prendere decisioni molto più veloci allora questo questo laga è ancora è ancora in evoluzione sì lasciategli del tempo perché sono arrivati prima di Natale però l'abbiamo letteralmente abbandonati lì anche perché il magazzino è sotto zero non si sa come cioè fuori ci sono 5 gradi il magazzino è sotto zero cioè è un miracolo della fisica e della meteorologia e quindi diciamo che di solito noi la lasciamo in magazzino la lasciamo qualche mese d'estate c'è più fortuna perché il caldo li fa rinvenire abbastanza in fretta anche quando l'abbiamo aperti vabbè che l'abbiamo aperto da congelato l'abbiamo aperto il caolila era un pelino muto ecco era questo meraviglioso tè freddo alcolico che non sapeva di molto però lasciateli del tempo se avete il campione se non avete già fatto fuori tutto se avete la bottiglia dimenticate dell'aperta e che vi restituisce anche un sapore ben diverso ecco allora siccome c'è gente che ci sta davanti un paio di chilometri c'è gente che sta già assaggiando il caolila che verrà estramessa dalla degustazione dai dei malaspine adesso li chiudo subito buttalo fuori immediatamente buttali fuori niente spoiler dai ci siamo ci siamo un po' adagiati su questo devo dire che mi è piaciuto molto di più di quello che avevo in mente molto secco molto classy allora dai andiamo avanti andiamo avanti e vado a presentare quel whisky che teoricamente guarda che Igor si è alzato e è andato a prenderlo fisicamente quello che ha già assaggiato il caolino no è andato a prendere i sample è andato direttamente su e vi rubate i sample tra di voi ma come siete messi no fammi un favore per una bottiglia da dietro che le hai vuote nostre e così potremmo ammenarcela solo per una cosa poi lascio la parola a Fabio per una volta abbiamo fatto le cose ancora più difficili no no mostra mostra l'abbiamo fatta in modo tale no no faceva vedere perdila qua prendila prendila la bottiglia ah si scusa è Fabio stavo guardando è uguale le abbiamo stampate in modo che si vedessero anche dal lato davanti quindi man mano che ve la bevete riuscite a vedere la stessa cosa che vedete dietro con tutto l'effetto dell'alcol benefico che è una cosa un nuovo esperimento sociale che stiamo facendo con le bottiglie di whisky guarda devo dirti che mi piacciono molto di più rispetto agli altri che erano poi chiaramente si va al gusto però questa trasparenza comunque ti fa vedere il colore del liquido più l'immagine dietro a me sinceramente piace di più ma allora l'inizio noi siamo sempre stati contro le bottiglie nere io per tantissimo tempo ho messo anche l'hashtag no black bottles non me ne pento non è che poi sono diventato commerciale mainstream perché la bottiglia nera per molto è stata anche scimmiottare gente molto più grande di noi e copiarli però è stata scelta per la spiritovar per una questione di contrasto cromatico cioè i quadri risaltavano molto di più e si riuscivano a vedere meglio in più era la prima volta che usavamo questa tecnologia come stampa e non avevamo assolutamente idea di come venisse il problema era che non sapevamo se si potesse stampare double fast gliel'abbiamo tra virgolette detto noi di provare perché non l'avevamo mai fatto se no avreste avuto dietro bianco perché c'è uno strato di bianco completamente opaco dietro il colore quindi sarebbe stato anche brutto da vedere il nero risolveva il problema e faceva sparare molti colori poi c'era comunque il logo d'oro che era nuovo le targhette nuove come taglio come disegno diciamo che abbiamo siamo voluti andare un attimino sul sicuro però siamo anche noi d'accordo ne piace il colore del liquido dentro cioè è la cosa più importante sui room ci sarebbe piaciuto diciamo che estremamente poi anche la scelta di questa cerraracca color fragola è stata abbastanza di rottura è assolutamente centra è un prodotto è un prodotto diverso un prodotto che vivrà di vita sua perché non so quante ne potremmo fare così con queste scelte cromatiche è molto 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 sestante allora proseguiamo proseguiamo entriamo nell'ambito del caolila che dovrebbe quantomeno rappresentarmi perché nella mente dell'artista e di Davide il gatto grigio dovrei essere io evidentemente ci piacciono i gatti sia chiaro io sono un gattofilo un gattaro proprio malato non ho ricordi di me fin da bambino ma proprio in assoluto senza un gatto in casa o esperienze dei gatti quindi evidentemente ci sono molto legato ma al di là di questo l'altra cosa è che il caolila è stata la prima botte che ho imbottigliato che ho comprato nel 1999 ed è una distilleria a cui sono legato anche emozionalmente vi invito a lavare un po' il bicchiere perché questo è un whisky più delicato rispetto alla gabuli che lascia molto a meno che non abbiate un set di bicchieri dopo che l'avete lavato vi inginocchiate per assaggiarlo perché è il whisky che mi rappresenta al di là di questo come l'ortolante esattamente se avete anche dei ceci potete metterli per terra allora evidentemente questo è un whisky molto provocatorio perché non credo che ci sia stato che io sappia un altro affinamento in botte di entre de mer rouge entre de mer rouge è una haussée quindi è una è una denominazione di origine francese e che sono per esempio è la zona che sta tra la garonna e quell'altro fiume del cavolo che non mi ricordo la d'ordogna quindi è una zona molto ampia più che altro famoso per i vini per i vini bianchi per il suo vigno questo principalmente dovrebbe essere un vitigno base merlot merlot è un vitigno in quella zona non particolarmente tannico quello che temo negli affinamenti dei vini rossi e sono i tannini mi ricordo alcuni amarroni finis dei tempi che furono di long row questo genere che erano molto tannici che avevano un apparato ma perché le uve da cui venivano erano comunque le uve con una forte carica tannica eccetera eccetera questo è un entre de mer un entre de mer tra l'altro Davide ho letto che qualcuno ha scritto che l'abbiamo comprata due anni poi l'abbiamo messa otto anni in entre de mer ma questa nasce in entre de mer da quanto ne so questa magari ha fatto un anno in bourbon a caolile e poi è stata messa in entre de mer questa l'abbiamo comprata in quel batch iniziale molto credo 2017 o 2016 anche qua 2017 da quanto ne so è sempre stata in vino praticamente sempre non so se caolile l'ha messa proprio lei in vino no 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 beh no quando è arrivato dal broker dal broker è stata messa subito quindi sì per cui questo non è un finish no no questo è un invecchiamento in entre de mer male che vada sono sette anni ecco che ho il piacere di condividere con voi quindi ripeto non conosco altri invecchiamenti in entre de mer a livello mondiale e anche nella galassia fuori dal sistema solare quindi l'olfazione evidentemente c'è chi ci sente il tabasco il brodo di carne beh zozzone sì beh però i profumi sono molto vicini alle fragoline di bosco l'aceto l'aceto di lamponi dice Matteo c'è chi sentirà big bubble no big bubble sì però perché è comunque dolce perché comunque ha queste notte leggermente sintetiche tra l'altro anche questo sta avendo una bellissima evoluzione anche da aperto un po' di salsa al barbecue no la dolciastra è affumicata anche questa è stata una bella scelta nel senso che noi l'abbiamo sì uva americana vitis labrusca sì diciamo che non ci ha convinto durante tutto l'arco della vita l'abbiamo riassaggiato più spesso negli ultimi due anni covid diciamo dall'inizio del covid da oggi e ci siamo convinti molto di più diciamo negli ultimi due anni ha avuto un'evoluzione rispetto a come l'avevamo assaggiato appena comprato che ci ha convinto di più aveva una bella personalità ecco soprattutto non era tannico che il problema col vino come ha detto Fabio è sempre quello per noi la tannicità soprattutto i legni sono fondamentalmente dei legni giovani perché nel vino non vengono usati tanto in termini quelli piccoli non tanti anni le barricche il rischio è che sapessero di mensola dell'Ikea che è una delle cose che sia a me che Fabio proprio non legno giovane è terrificante Lorenzo giovanetti che è un bevitore di entre de mer maniacale cosa ne pensa? credevo che fosse un leccatore di ripieni dell'Ikea tutte e due non in quest'ordine però insomma lo trovo delicatissimo Fabio Fabio lo trovo delicatissimo lo trovo veramente delicato e sento più la parte delle fragole la frutta le fragoline il lampone piuttosto che le puzze ecco devo dire la verità sento più quell'aspetto leader poi magari c'è tutte e due però sento più quell'aspetto lì e in bocca rimane per nulla tannico molto delicato quasi setoso è molto morbido è molto bello lungo l'alcol è tenuto benissimo 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 io ti ho trovato un canale l'alcol è tenuto benissimo scusate mio figlio un attimino che si è presentato deve trovare un canale per guardare i cartoni animali per cui sì bravo bravo Fabio bravi bravi Fabio bravi tutti bravi molto buono molto buono era molto era molto strano eravamo un po' in ambasce facciamo sempre delle scelte un po' se non altro rischiamo sulla nostra pelle non rompiamo le maledie è atipico è veramente atipico ma è molto a parer mio è anche molto elegante anche molto elegante perché non è per nulla scomposto buono molto buono anche questo è molto pericoloso Fabio questo qui avendoci una bottiglia a casa un goccio di dall'altro anche interessante ho trovato il canale molto morbido molto rodondo e fai presto a fine bottiglia e questo è pericoloso è la prima cosa che ha detto Fabio quando io ero lì che montavo scatole con al freddo con il cappellino tirato giù e con la sciarpa fino a qua e lui che girava saltando con le bottiglie per assaggiarle una ballerina dell'Etoile quando l'ha aperta questo me lo finisco tutto me lo finisco tutto questo me lo bevo tutto assaggia no me lo bevo tutto no io in genere entro in magazzino perché io arrivo in Bentley ovviamente vestito di sete di cose lo portano con lo scranno papale importantino in realtà esatto sembra un benzinaio come gli altri e incomincio a dire col pastorale col pastorale ma il caolila è buono? è vero? ma è buono il caolila? e lui fa che cazzo ne so cosa possiamo fare per sapere se è buono e mi fa senza neanche girarsi mi fa le bottiglie sono contate mi fa piacere almeno sappiamo quante sono mi stai dicendo che non ce n'è non ce n'è per assaggiarne è più o meno è così le bottiglie sono contate benissimo quindi sappiamo quante sono contiamole ancora adesso ce n'è una in meno esatto poi hai detto da dove l'hai presa da che mucchio l'hai presa per sapere era la parte quante me ne dai Fabio dice quante me ne dai questa è la risposta il mucchio era lì ce n'era un po' io ne ho presa una a caso tant'è vero che ho preso la numero 260 non so cosa voglio dire bel numero dai no perché siccome qui c'è qualche maniaco che si tiene tutto le numero uno e non voglio sapere e non dico chi è fa bene però fa bene secondo me fa bene questo che si tiene le bottiglie numero uno cioè alla fine a chi dovrebbero andare va nessuno vanno aperte le uno verranno aperte tutte lo dico poi fra 30 anni posso invocare la demenza senile e dire che non l'ho mai detto però l'idea è fra 20 30 anni di cominciare ad aprirle tutte Matteo mi ha portato un altro po' di MDMA quello è bello perché l'idea non è di averli come dei canopi nella tomba ma a un certo punto di cominciare ad aprirle e dire questo è quello che abbiamo fatto 30 anni fa e ce li riassaggiamo tutti beh giusto un bel progetto e poi la torba Fabio questa torba che è veramente delicata per nulla invadente buono veramente buono guarda bella bella selezione bravi allora chiudo ancora una cosa poi vi faccio passare all'armo qui esiste un problema di fondo che non ci sono più abbastanza botti nel mondo ovvero sia col crescere delle craft distilleri americane gli scozzesi si sono trovati in difficoltà proprio numerica con le botti di bourbon che arrivavano dagli Stati Uniti questo non è uno scherzo perché stiamo parlando di 50 milioni di barili all'anno ok quindi hanno dovuto incominciare a guardarsi in giro verso l'altra industria che usa le botti per fare qualcosa ovvero l'industria del vino quindi ci troveremo sempre di più a confrontarci con dei wine finish o degli invecchiamenti in vino e qui lavorando con la fortuna di lavorare con Glenall abbiamo visto i Porto i Moscat eccetera dipende poi come vengono usati perché le prime esperienze che abbiamo avuto con le botti di vino magari non sono state fortunatissime perché si prendeva magari non li si lavava col perossido piuttosto la costigenata o con altre cose e si facevano degli invecchiamenti un po' spericolati adesso si comincia a capire come si può usare questi legni che comunque nella maggior parte possono anche essere legni di ottimi roveri europei quindi il legno in sé è molto buono e secondo me ci sarà uno sviluppo anche nell'uso dell'invecchiamento del whisky con i legni di vino almeno me lo auguro perché insomma provare il modo di usare bene i legni di Soterno di Moscò di River Soul piuttosto che di vini dolci italiani o cose di questo genere qua certo bisogna saperli bisogna saperli un po' usare magari avere anche un po' di pazienza però io lo vedo un po' lo vedo un po' come il futuro per certi versi e secondo me tra l'altro si prestano benissimo a essere blendizzati nel senso che se prendi un po' di bourbon casque prendi un po' di wine casque e li metti assieme i risultati potrebbero essere sorprendenti quindi siamo in un momento anche un po' peculiare evolutivo dell'industria del whisky ho detto una roba seria so che vi stupisce però la penso così diceva non lo diceva Jim McEwan che quando aveva iniziato a Brookley di utilizzare mancavano botti è iniziato a usare botti madera di cui noi ne abbiamo imbottigliato uno madera vino dei porto particolari su Ayla gli ridevano tutti dietro perché era il primo che faceva questo tipo di scelta prendeva delle botti assolutamente non canoniche rispetto a quello che si era fatto ad Ayla però in quel momento mancavano non riusciva a trovare altro infatti ne vedete tanti di Optomore in vino o in sherry particolari o comunque in vini diciamo vini dolci vini ossidati particolari ne vedremo di più speriamo che siano buoni ecco questa è la cosa importante io mi ricordo anni fa avevamo parlato a una cena alla cena alle nozze rosse avevamo parlato di un progetto di fare utilizzare i vini bianchi ti ricordi i vini bianchi dolci lo faremo chiaramente c'è chi è molto più in gamba di noi che magari già incominciato a farlo però noi abbiamo il tempo e abbiamo le botti soprattutto che è il nostro piccolo vantaggio ma ho letto è passata una roba stercofatti si hai lasciati stercofatti ok bello ma è italiano lo è ora dopo tre bicchieri di whisky lo è petaloso stiamo plasmando botti e nuovi sinonimi che meraviglia nuovi aggettivi scusa ma dopo tutto io lo dico fratelli Malaspina non pensate che questa sera si mantenga seria cioè con una serie chiamata follia non poteva che finire tutto in follia non l'abbiamo mai pensato ecco no l'importante è quello perché vi vedo sempre molto seri molto professionali anche noi lo siamo questa sera invece è il delirio totale io lo dico e poi domani dirò che ero completamente strafatto ovviamente Davide Davide tu lo sei perché l'altro lì sotto no ma Fabio non lo fa vedere ma di fronte ha tipo tipo Breaking Bad sta facendo varie droghe è lì con il contagocce è lì in ufficio infatti con st'ampolline arriva le pipe del terro con l'ampollina va bene poi vorremmo conoscere anche l'impressione di Matteo che stasera lo vedo silente perché si vede che magari in un momento sta lavorando dietro le quinte ecco lui per esempio se abbiamo il finish ha deciso che stasera che stasera va di questo se l'hai portato da casa guarda che è vero abbiamo fatto il finish sono i famosi finish dei nostri colleghi vabbè dai lasciamo perdere e dai mi fa piacere che vi sia piaciuto è stato un po' un salto nel buio come tutta questa serie come al solito ci va di culo ma quello che è il più zozzo di tutti è Davide Romano con il suo gatto rosso ok allora prima me lo metto e poi ne parlo ovviamente anch'io gattarissimo e poi non potevo non fare un gatto rosso grigio ovviamente perché gatto nero non mi sembrava il caso per Fabio poi lui l'ha legato a una questione di capelli che io assolutamente non ho pensato hai pensato male io infatti gatto nero mi sembrava un po' triste infatti che sono stato così furbo di raparmi a zero prima della diretta perché sennò si vede che sono ormai ingrigito allora l'hardmore 2008 un 2009 scusate un 12 anni maturato bottefaraon non è la prima volta che utilizziamo questo share ormai l'avete visto molto spesso l'avete sentito citare tante volte ormai è da due anni e mezzo direi che lo lo stiamo cominciando a utilizzare fa parte di quelle solere che abbiamo smontato e acquistato una cosa che non ho mai detto è perché ogni tanto butto l'occhio su whiskey base ma tanto lì ogni tanto metto anche dei prodotti che non abbiamo mai fatto e saltano fuori dai commenti il che è molto divertente se ci pensate da vedere è un prodotto mai fatto e vedo i commenti e i voti l'ho assaggiato e non mi è piaciuto sì esatto io l'ho mai bottigliato a volte ci sono delle note riguardo soprattutto con gli sherry molto tosti come questi che sono botti comunque che avevano più di 50 anni cioè per più di 50 anni hanno tenuto sherry riguardo allo zolfo ecco nessuna delle botti che abbiamo comprato sono trattate con lo zolfo semplicemente perché sono svuotate le compriamo piene ce le svuotano apposta e le spediamo con 5-6 litri dentro giusto per tenerle tenere la gente in magazzino ubriaca quando arrivano tenerle umide ma non vedono lo zolfo quindi a volte ci si confonde magari quello che è un sapore molto ossidato di vino aromatico di sherry con quello che è magari lo zolfo o l'estremo ossidazione io questo non lo so però era giusto per siccome ci teniamo non ci siamo assolutamente offese non me la sono assolutamente legata al dito figuratevi io non servo mai rancore però ci tenevamo a dirlo Hardmore non è la prima volta che lo imbottigliamo è una distilleria che a me piace tantissimo perché è una distilleria che nel tempo ha prodotto sempre meglio secondo me è una di quelle diciamo che da moderno quindi da produzioni giovani un 10 anni un 12 anni un 9 anni la qualità non è scesa cioè si è automatizzata ma è diventata secondo me sempre più buona sempre più consistente in qualità ma soprattutto è una distilleria che è ancora sottostimata e sottovalutata che è bene lo dico sempre perché vuol dire che lo si riesce ad avere ha un costo più accessibile più interessante anche per noi per lavorarci e poi è molto bella da utilizzare secondo noi secondo me Massimo Fabio mi dice no 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 non è vero nelle maturazioni perché non ha non ha dei grossissimi difetti non ha delle cose delle puzze particolari diciamo che possa virare anzi molto spesso ha delle note estremamente eleganti io anni fa ho detto parlando della torba siccome utilizzano la torba di Tovintour è una torba molto ricca di Edera di Edera sì ciao di Erika a un punto di Erika molto alto gli dà a volte un profumo una florealità che altri torbati non hanno Caulila e Salino e Lagavulin e tutt'altro diciamo che si prestava bene in questo caso siccome già avevamo utilizzato l'Armor l'avevamo messo anche dentro le botti Coval quelle piccole che avevamo utilizzato per il Caulila abbiamo detto utilizziamolo proviamo a vedere cosa succede se lo mettiamo in Sherry in questo tipo di Sherry che è tosto perché comunque bisogna dargli un contraltare e secondo me è venuta fuori una bella bestia perché gli ha dato tutto a un lato diciamo più masticabile più sporcone più zozzo comunque legato al tipo di Sherry che abbiamo visto che il Faro è un oloroso un oloroso un po' più secco un po' più aromatico dell'oloroso in sostanza oloroso voglia dire aromatico però secondo me è completato Fabio gli ha dato il naso gli ha dato un po' di più rispetto a quella che è sempre stata la bella eleganza di Arnold un'ortorbatura ma esagerata non salino profumato un po' di vaniglia della botte qui gli ha dato dei lati un po' più di umami che sono tipici dello Sherry ma gli ha dato una bella personalità una presenza un po' più grazia devo dire che le botti che ci ha venduto cos'è della Vega mi ricordo come si chiamasse questi faraon questi faraon sono uno più buono dell'altro cioè qui c'è la porta della botte in bocca il naso mi piace perché veramente va in tutta le robe putrescenti secche siccate mare terra eccetera ma in bocca è molto buono in bocca è molto molto buono ricorda i whisky di altri tempi assolutamente mi ricorda moltissimi whisky che erano anche se vuoi alla base dei Grants o comunque la parte torbata non di Isla si sente si sente molto bene scusate il divario generazionale ma squenci di morti che cazzo è cos'è non so io ho letto qualcuno ah scusa credo lo dicessi a me no no in generale ho letto sono dei personaggi chiedilo al ragazzino lì probabilmente lo sa ci sono squenci di morti vabbè comunque è Doraemon mi 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 informerò una sera ti illustro sembra una canzone di di gabber una sera ti illustro vabbè e quindi ci qualcuno ti sei suicidato un ti sei suicidato un moscerino ma perché probabilmente era un moscerino alcolista ma tanto effesso tutte proteine collagene va bene insomma direi che ricotta messa ricchi e morti è un cartone di menziano eh 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 ragazzi io la tv non ce l'ho per cui no sto scherzando seguo solo le dirette di non solo whisky su youtube te voglio vedere te voglio solo le dirette di non solo whisky metà metà dei like che c'erete voi ce li metto io eh entro esco entro esco entro esco non sto cazzo a fare tutto il giorno e sto lì anche i followers ti sei messo tipo 3000 nomi uno uno e squenchi sì no ci siamo ci siamo spinti un po' più in là perché anche a livello pratico questa è una cosa più da me da dire che da Fabio imbottigliare in un colpo solo quattro torbati è una bella botta nel senso che il torbato ci deve sempre essere deve sempre essere parte della release questi sono più i macchinamenti miei no per eh questioni di di distribuzione di bilanciamento dei prodotti farne quattro in un colpo solo è giocarsi proprio tutto subito quello che hai ehm però ci piaceva ci piaceva molto l'idea nel senso abbiamo detto va bene ne abbiamo altri ovviamente però eh cerchiamo di far molto diversi fra loro come? molto diversi sono molto diversi fra loro sì quello era il bello il principio di questa cosa è che fossero tutti diversi legni diversi molto diversi volevamo fare uno per ogni regione però poi ci abbiamo provato abbiamo assaggiato delle cose no perché cercavamo cercavamo degli altri torbati di cui possiamo tanto voglio dire eh allora siamo stati sfortunati perché non abbiamo trovato un Croftanghia che ci piacesse è vero eh ci sono altri altri anche un Ruadmore perché alcuni sono molto buoni quelli di Carmore sono molto piacevoli quelli che ci avevano offerto anche un po' di tempo fa rispetto a questi erano un gradino in sotto oltretutto c'eravamo un po' rotti le scatole di fare la classica edizione un torbato un island un torbato uno sherry un bar lo faremo ancora perché è quello che il mercato richiede però abbiamo avuto la possibilità assaggiandole erano tutti differenti espressioni diverse zone diverse alcuni secondo me anche irripetibili perché ripeto le Daig noi ne abbiamo ancora uno forse due in giro e tanto che non ne vedo non so quanti ne berremo ancora se non di distilleria di questo livello ma adesso è il momento del 2005 dell'Ajag ne vedrete ho già cominciato a vederlo imbottigliato perché mi ricordo che c'era stata l'offerta ma è il momento del cambio di prezzo totale cioè si sta cambiando totalmente il prezzo dell'Ajag rispetto ai 10 anni ai 12 anni il 2005 che esce va bene a 16 anni 17 anni però comincia a pistare giù duro ecco cioè è già entrati in una fascia di prezzo in cui abbiamo detto beh per fortuna che un paio li abbiamo ancora da parte e un po' ne abbiamo fatti e sono raggiungibili però purtroppo come tante cose io metto le mani avanti i prezzi sono cambiati tantissimo su certe distillerie in maniera pazzesca ci chiedono quando un nostro springbank eh magari prima di quanto possiate immaginare vedremo qui la gola profonda sono sempre stato io però mi taccio no ma io faccio spoiler così sto un attimo sondando a vedere com'è la situazione mi taccio c'è in cantiere mi taccio è veramente complesso molto vedremo vedremo sono sono cose da venire quanto ha fatto in Sherry questo ha fatto 4-5 anni 4 anni 3 anni e mezzo 4 anni 4 anni sì c'è anche un limite ecco noi sapete non facciamo i 6 mesi anche perché come fai a fare i 6 mesi se lo assaggi dopo 6 mesi ti arriva dopo 9 mesi hai già fatto 9 mesi cioè impossibile più che altro che abbiamo sempre tenuto abbastanza dentro le botti ci piaceva così cercando sempre di non esagerare non lo si può tenere più di tanto anche perché sono parte che perdi l'equilibrio diventa tutto tutto botte queste sono botti molto marcanti non sono botti da trasporto sono botti che hanno tenuto lo Sherry per 50 anni quindi dentro c'era la melma tutti questi sono stati filtrati a pressione su tela ovviamente non con i filtri in tela in tessuto in cotone perché quando mi arrivano le foto dall'impianto mi dicono cosa faccio di sta roba e sembra tipo l'acqua della laguna di Venezia filtriamolo perché non si riesce a vedere attraverso talmente c'è sospensione questa è la botte che si sta smontando proprio l'interno che il legno sta morendo è un legno vecchissimo certamente abbiamo immaginato con Fabio possa dare un effetto positivo perché comunque aumenta la superficie di contatto con il liquido tecnicamente è una cosa molto speculativa che stiamo approfondendo anche come al solito sulla nostra pelle e non sulla pelle degli altri nel senso che tutti questi esperimenti ce li facciamo in casa ripeto pagando i nostri esperimenti di tasca nostra questa è un'altra riflessione interessante e il fatto che questa polverizzazione delle materie linee possono effettivamente portare a un'esposizione maggiore infatti se pensiamo anche al mondo del vino che fanno i vini con le chips che è diventato legale i primi sono stati gli australiani e i cileni per cui può essere che questo legno molto vecchio diventi così marcante anche perché diventa quasi non è solubile ovviamente però diventa molto distribuito nel liquido stesso può darsi che abbiano bottiglie che abbiano un po' di fondo una polvere fine 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 quasi non si vede può darsi magari le ultime a essere ingottigliate quella che passa attraverso gli ugelli perché i pezzettini non passano e ve lo dico quando vedete i pezzi dentro li mettono dopo perché si impianta ma sono talmente infinitesimale quasi da legarsi alle glicerine tra l'altro abbiamo fatto bene a lasciare per ultimo questo credo perché alla fine io in fondo ho un sentore dolce in bocca stavo proprio dicendo pensando a questo perché all'inizio ho visto tutti i commenti che hanno fatto e hanno parlato di pesce roba putrita ringhe invece in realtà adesso sta tutta una parte dolce liquirizia molto morbido va lasciato stare si si va lasciato toccato il meno possibile che prende aria e che diventa veramente una buon conclusione di serata anche questo pericoloso fate tutti i whisky pericolosi siete pericolosi voi due in realtà è questa la vediamo se trovo giusto per molestarvi un attimo e farvi fare i viaggi psichedelici cambiando schermate eccolo questo era quando sono andato a prenderli un po' di quando sono andato a prendere i quadri quest'estate Fabio non l'aveva ancora visti pensate era tutto una cosa fatta alle sue spalle non è vero però gli avevo detto gli avevo fatto vedere ovviamente il soggetto perché come sapete noi non abbiamo molte regole in balance e mallet l'unica regola è che io e Fabio dobbiamo essere d'accordo su tutto se no non si fa qualsiasi cosa che sia da scegliere una botte o meno dobbiamo essere entrambi d'accordo se no non si può non si va molto in là nel tempo e quindi è la formula vincente che abbiamo adottato finora in realtà questa è stata una scommessa anche da parte mia perché non sapevo se gli sarebbero piaciuti è stato molto quindi sono stati commissionati fatti e sono andato a prenderli con un caldo e un'umidità pazzesca e poi glielo ho fatti vedere che è stato un momento in cui ho sudato di più nella mia vita quando gli ho fatto vedere i quadri ho detto speriamo gli piacciono mio Dio beh tanto li ho qualmi li appenderò in casa ma è stata un po' una scommessa e abbiamo fatto anche una foto in caso non gli fosse piaciuto avevamo fatto la foto e abbiamo detto in caso ti aspettiamo a Rovereto eccoci qua ci eravamo preparati per in caso non fossero piaciuti ma sembra un vecchio rincoglionito ma comunque qualche no qualche no no sto scherzando ma sono sempre stato molto vicino alle avanguardie ai nuovi modi di esprimersi e questa qua è una serie che come? sei troppo pop sei troppo veramente questo non te lo so dire sono forse più hippie che pop perché ho 57 anni tra una settimana però rimane rimane il fatto che che mi colpì molto tutta la veste grafica così vi ricordo il commento dei di quelli che ce l'hanno stampati che comunque sono dei ragazzi sono dei ragazzotti per me e ci mandarono questo messaggio detto questa è la cosa più cool che abbiamo mai stampato e ci hanno proprio mandato la foto che girava dicendo che figata bellissimo in inglese in scozzese per cui come si dice in una maniera così e devo dire se sono se è piaciuto a questi trogloditi evidentemente potrebbe no potrebbe bravissimi sono bravissimi la gente fantastica che ha lavorato per noi anche loro ovviamente sotto zero in periodo di covid per cui il grande ringraziamento va a come cazzo si chiamano imagine bottlers image on glass image on glass number one assoluti perché veramente hanno fatto un lavoro poi mi scrivono su whatsapp quindi quando riesco a spondare la barriera dell'email è la fine della vita di queste persone perché nel momento in cui mi danno il loro whatsapp loro hanno finito di avere una vita perché io finché non mi rispondono li martello su whatsapp loro dovrebbero bloccarmi il numero fondamentalmente mai darmi il numero di telefono o il contatto di facebook e quindi funziona che praticamente io gli mando le cose ufficiali e poi mi devono mandare la foto e una volta si riusciva ad avere il campione del vetro cioè prima della brexit riuscivamo ad avere la bottiglia qui perché spedirla era uno scherzo ma spedirla adesso è un cinema perché devi fare un import per delle bottiglie vuote quindi per quattro bottiglie vuote devo far l'import allora gli devo far fare la foto gli ho spedito la tavoletta grigia fotografica apposta e gli dico fatela con questa tavoletta di fianco perché devo controllare i colori se hanno senso perché molte della Spirito Varta la prima stampa erano tutte blu non si capiva perché un'altra era tutta gialla e quindi dovevo prenderla ritarare il colore rimandargli la foto tutta blu o tutta gialla secondo di come la macchina si svegliava quel giorno e fargli rifare il campione per compensare il fatto che la sua macchina fosse starata quindi ogni volta è un lavoro di avanti e indietro così via messaggio e quando me l'ha mandata la prima volta gli ho detto senti ma prima di mettere il fondo tu lo stampassi un'altra volta poi gli metti il fondo bianco e poi glielo ristampi sopra e mi fa ah ma tu dici per farlo dubble fa sì non l'abbiamo mai fatto facciamolo proviamo massimo fa schifo buttiamo via le bottiglie ma è tutto nato così cioè sono cose veramente da sembrano grandi progetti con studi grafici dietro in realtà e senti prova a far così vediamo cosa viene fuori e adesso ne stiamo vediamo adesso con Fabio sceglieremo i nuovi quadri però per la spirito varte avevo in mente di un quadro che avrà una cosa nuova quello proprio mai fatto non so come mi sia venuto in mente speriamo che venga bene se scegliamo quel quadro è una cosa che vedremo se si può fare e dentro ci metteremo del chinotto perché così per finire un po' in bellezza meglio il chinotto che il chinino in caso o l'idrosso clorochina io spero spero veramente che vi siano che vi siano piaciuti adesso vediamo anche quale piacere c'è addirittura chi applaude faccio partire il sondaggio vediamo quale è piaciuto di più e sono stato sotto le due ore posso votare posso votare questa volta vediamo che cosa c'è secondo me ci potrebbe essere una buona battaglia soprattutto tra due vedo Fabio un testa a testa fra me e te vedi frano avrei detto che l'Edex avrebbe eh anch'io perché era di una di una bontà eh però gli altri due ci sono venuti bene abbiamo finito il 100% dei personaggi sposti termino bene sono contento che ha vinto Fabio così non me la fa posare eccoli qua il Caolila ma pensa il Caolila vedi non me lo sarei mai aspettato molto molto testa a testa dai bene alla fine eh Caolila Armor vedi 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 poi l'Edex e il South Shore il caro Onirum poi vedi ha influito molto e sembra che sia stato un pochino meno apprezzato rispetto agli altri ed è stato il primo tra l'altro a essere spazzato via come richieste ma è questo il bello a volte di Armor Caolila vabbè che hanno due finish cioè due finish due maturazioni molto particolari rispetto agli altri un po' più marcanti però cioè è anche il messaggio che continuiamo a dire a volte bisogna sapersi far stupire dalle cose meno ovvie ecco dalle distillerie meno famose quando si pensa al torbato viene subito in mente Gnagnabulin Leggia che è più importante Caolila che vabbè si è tezzato benissimo però Hardbeck no come? Hardbeck non ti viene in mente? Sì sì indipendente se lo vuoi fare volentieri mettiamo ipotechiamo la casa e non l'ha fatto non l'ha fatto quei simpaticoni del Wutan Malt Wudram credo Wudram sì vabbè ho capito ma loro sono come si chiamano sono Kirsch il più grosso importatore tedesco esistente muovono i contenti sono entrati nel magazzino o le hanno sparate grosse oppure hanno fatto una roba fuori dal normale non so quando muovi un container al mese forse ti fanno fare queste cose beh di Hardbeck sì effettivamente non so proprio quattro gatti loro c'è c'è dietro il più grosso distributore della Germania nel senso che le vie del signore le vie del denaro evidentemente sono infinite però comunque non so devi andare almeno indietro di 15-20 anni per fare un Hardbeck con una torba non lo so non voglio parlare non sto esprimendo giudizi però devo dire che queste torbi qua sono molto più nelle mie corde nelle nostre corde giusto per deliziare gli istanti parlando di torba eccolo lì sempre devi far pubblicità sempre sì faccio pubblicità a me che cazzo pubblicità ce ne sono tre bottiglie in Italia 108 nel mondo però questo qui è una torba che non esiste più si vede non si vede un ostio è il Glen Geary dell'88 allora questo è un Glen Geary Glen Geary dell'88 della famiglia Morrison nel periodo in cui la 32 anni la famiglia Morrison faceva sia la maltazione che la torbatura a Glen Geary perché comunque è una delle stiliere più vecchie di Scozia e faceva questo prodotto qua che è torbato e siccome i Malaspina hanno comprato tutta la produzione esistente vogliono fare una degustazione gratuita per tutti scusa i Malaspina non l'avevano comprato bravi bravi scusi Malaspina non l'abbiamo aspettatevi campioni questo costa solo 3500 euro 50% grazie grazie Diego grazie Igor sapete che la promessa pubblica si chiama così perché impegna pubblicamente no? siccome le abbiamo sentiti tutti che presto apriranno una boccia di queste qua dovremmo fare solo uno 0,2 a testa però voglio dire si sono impegnati a regalarsi io ve lo pago 0,02 se fate la degustazione online io lo prendo perché tanto Fabio se no non me lo fa neanche assaggiare da lontano cioè me lo fa guardare ma tu guardala e dimenticatela io non le apro mai le bocce sai cosa potremmo fare? il portellen è questo qua bisogna trovare solo la gente che c'ha da spendere esatto eh sì l'Eidolon è questo qua per fare una comparazione di torba che poi magari non ci piace neanche tanto dai meglio stare su queste robe qua che possiamo aprire tu non ce l'hai il nostro l'Edex25 c'è chi ci sta sbandierando un l'Edex25 no è molto buono però lì non c'era la torba perché lì c'era c'è stato un inghippo documentale per cui l'abbiamo venduto come le daiga tenendoci ai documenti che tra l'altro quella botte lì è molto buona è un toberto è veramente molto buono e quella botte lì è stata Ben Nevis vent'anni la botte lì di di Leda l'abbiamo trovata Ben Nevis risiedeva Ben Nevis sì sì quindi cinema per spostarla cioè no tutto molto facile sì no con cinema per spostarla però è stato cioè non è un brutto posto invecchiare a Ben Nevis no è come invecchiare a Paisley per chi sa dove è Ben Nevis e sa chi è dove è Paisley che è in mezzo alle autostrade Paisley posto meraviglioso non si dica niente contro Paisley no 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 per dire però non è un posto dove sì va bene sede dell'accento più difficile di tutta la Scozia Paisley Paisley sì sì è proprio il Ouija più spinto più cattivo di quello che quando ti parlano dici eh è Paisley sì 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 beh assolutamente ci vuole il tradotto ti dico quando sono andato là dovevamo fare c'era la cattura che sono andato là di persona a spiegargli come volevamo c'era la cattura delle bottiglie sono andato c'era anche Matteo se non sbaglio sì sì oi oi cioè siamo andati là abbiamo fatto la Galloway Forest tornando su da Newton Stewart per risparmiare 45 minuti ma questa è una storia che scusate va raccontata perché è i limiti della mia follia io guidavo perché sono l'unico che guida anche dall'altro lato eravamo io Matteo e Nicolò siamo andati giù in una warehouse praticamente è più giù sai che il confine con la Scozia è storto è così è così Newcastle è più a nord rispetto ad altri ad altri posti e dovevamo tornare su in tempo per andare in sto magazzino prima che chiudesse perché era venerdì e perché avevamo perso tempo a mangiare salmone sì però non volevo dirla così volevo dire che eravamo molto impegnati e quindi la strada normale era tipo un'ora e mezza e poi c'era tagliare attraverso il parco della foresta di Galloway abbiamo scelto di tagliare attraverso la foresta perché si risparmiava tipo 45 minuti una guida da ritiro dalla patente immediata c'erano loro due che non so quanti c'eri e dalla Madonna hanno acceso mentre io guidavo perché andavo come un matto e soprattutto passavamo sti cartelli che ho scritto strada chiusa strada chiusa sempre più avanti sempre strada chiusa e tu sei già tipo mezz'ora dentro il parco e vedi il cartello più avanti strada chiusa strada interrotta tornare indietro ce la siamo fatta tutta così fino ad arrivare là e quando sono arrivato per spiegargli come c'era la cara per la temperatura tutto un lavoro cioè stai scemi e io sono scemo perché per metterla c'era là che è proprio un lavoro mentalmente disturbati loro che mi parlavano io non capivo assolutamente cioè gli spiegavo glielo facevo a segni e poi abbiamo capito il mood ed è stata una cosa molto divertente però c'era sta scena con tutti intorno che mi guardavano mentre io pucciavo queste bottiglie dentro la ceralacca le scolavo le mettevo in piedi e gli facevo vedere tutti lì che guardavano è la fascettina di seta è la fascettina di seta intorno si è fuori anche perché questa hai capito è seta cioè noi spendiamo più in seta che in whisky durante l'anno hai capito perché c'è qualche maniaco autoreferenziale che se non è seta non si apre questa cosa qua non l'ho detto io non mi autoreferenzio l'hai detto tu mi piaceva usare questo tono qua è come peculiare se non lo metto dico due volte in una degustazione non sono contento comunque finisco la degustazione dicendo scusami se non è seta neanche la tocca la bottiglia chiaramente non gliela mettere così non l'apre e poi la puoi aprire esattamente avete presente che la foresta di Galloway è priva di alberi sì la foresta è uno tranne uno che è un albero di Natale e voi ci passate e c'è ad agosto un albero di Natale di una tristezza di una roba che ho visto gente suicidarsi davanti tu passi e ti giri e vedi questo albero di Natale altro un metro con ancora su le palline ha trovato con le luci esatto penso sia diventato un'attrazione turistica perché è una cosa veramente deprimente ci fanno i film non so e poi lo vedi per chilometri perché è solo quello come altro esatto la foresta di Galloway dai abbiamo fatto un'ora e mezza di di degustazione quattro chiacchiere tra amici direi direi dicendo due cose anzi tre la prima è che ringrazio voi chiaramente Fabio e Davide per essere stati per essere stati con noi ringrazio chiaramente anche Lorenzo e Arnaldo che ci hanno fornito supporto e che dire che pochissime pochissime e dico ancora pochissime bottiglie di quelle che abbiamo bevuto stasera tra poco ritorneranno disponibili sul sito proprio per per voi chiaramente chi ha già acquistato e non la potrà acquistare però chi non l'ha fatto ne troverà ancora qualcuna disponibile di tutte e quattro quindi ce le abbiamo ancora tutte e se volete vi diamo anche il prossimo appuntamento che uscirà l'undici di che sarà l'undici di febbraio la prossima degustazione ancora con Fabio Carmore nuovi bottigliamenti tra cui anche un berrine 25 anni in Sherry dunque sì allora prima era una butade riguardo al Glenghiere 32 questa invece è una una follia che devo ringraziare i Malaspina che hanno accettato di seguirmi su questa strada qua perché vogliamo condividere questo berrine in Sherry è un bat di Sherry di 26 anni sempre della linea dei Celebration of the Cast di Morrison che insomma lo assaggerete lo assaggerete il problema è che sarà preceduto da dei prodotti molto buoni tra cui anche questo un tobermo l'abbiamo messo sì 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 quindi continueremo sulla strada di tobermo che è un virgin oak tra l'altro una maturazione molto peculia ci sarà un bennevis è un dalween quindi molto molto raro e poi ce n'è una quarta una quinta che adesso però non mi viene però insomma tanto comunque domenica probabilmente usciremo con tutta la comunicazione newsletter e quant'altro quindi da domenica il quinto è il quinto è uno zaccappo no no c'entrava un cazzo era per offrire qualcosa che no sto scherzando e il Ben Rines è molto buono secondo me poi va a gusti no perché lì chiaramente lo Sherry ha tirato calce a destra a sinistra però era un bel un bel modo di invecchiare ti ringrazio per averlo per avercelo ricordato va bene chi è che tira le fila i nostri ospiti Lorenzo vuoi chiamare tuo figlio per mandarci tutto a quel paese no no tranquillo sono riuscito a calmerarlo in maniera abbastanza tranquilla con delle cuffie anestilizzanti e con del tavor eh che ti fa pure in quarantena poverino cioè e chi conosciamo conosciamo le problematiche grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bevete bevete tanto e con moderazione ah vi ho fregato con moderazione no bevete com'è il vostro motto bevete tanto ma fatelo fare agli altri bevete poco ma voi bevete tanto com'è che è no noi beviamo tanto ma se però la facciamo la facciamo che gli altri bevano poco al resto ci pensiamo noi una roba del genere dai ce l'hai tatuato qua potremmo cambiare potremmo cambiare tipo bevete quello che vi pare cioè alla fine sarebbe anche no ricordo con piacere siccome voi guardate sempre l'orizzonte lontano nelle vostre foto e mia figlia giustamente non conoscendovi quando poi ha lavorato con noi a Milano ha detto ma che problemi hanno questi qui noi guardiamo la vastità no hanno dei problemi che non riescono a guardare un punto fisso non riescono a guardare in canale perché è la loro religione perché a Nardo guardiamo la vastità sì ma fermati qua non dire la vastità di cosa l'infinito e oltre l'infinito e oltre capito è sempre è sempre un problema di vastità a volte come Buzz Lightyear Buzz Lightyear questo lo conoscevo anch'io non essendo abbastanza sguench per capire tutte le battute che girano però mi adatto a quello che conosco perché sei più hippie che pop questo penso di sì sinceramente però vai vallo a sapere adesso faremo tutti i prodotti addizionati con la mescalina esatto mi piace più la mescalina che l'MDMA ma questo è un discorso personale che la porto avanti da giovane ma questo è un altro discorso e devo dire che queste che queste etichette hanno risvegliato in me ricordi della California dai ragazzi è stato un piacere come al solito tagliamo la corda prima che comincia a diventare noioso ringraziamo tutti è stato un piacerone e soprattutto siamo stati dentro le due ore prima volta nella storia di me e Fabio meno di due ore è un miracolo ma sono solo quattro whisky quattro cazzatee poi erano tutti uguali erano solo più o meno caramello quelle cose lì grazie a tutti alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Ciao.